Paterno del Ligone presenta Ostinere Pappi Cerza e le Nocce Rametti Ligone a Costas Non è che a mezzogliano, ma l'idea riuscita in alto. Non ci sono giudicato, era ingresciuto. Ma come si faceva in sicurezza? Come si faceva in sicurezza. Si aveva anche una gianca. Alla l'ho passata. Quanto da noi erano? Quanto da noi erano? Quanto da l'icona da volta? Usta è... Alla l'ho facendo, facendo qualcosa. E' un'altra parte, in una città, in un'altra parte, e poi non c'è. E' un'altra parte, e questo si fa. E l'altra parte, questo non è un'altra parte. Ma che li chiamo adesso? Adesso è sempre una gianca, una gianca, però una usciglia. Dopo vado a sacrumare? Normal, vuole fare un condone, condone il cavale di crab. E' un collare un po' di qua. Esatto, un collare il cavale di crab. E questo vuole fare. Ma voi avete fatto con l'acqua calda, come voi avete fatto? No, adesso è che c'è qua verde, come questo, senza acqua calda. Ci vengono fatti i giaviti, ci vengono fatti i bucchi, e poi uno incastra l'altro, e poi ci vengono fatti il capozzo, che si appontano. Questo vuole contare. Ma tu, questa zona qua che ti ricordi? Mi ricordo che c'era una zona qua sotto c'era l'acqua. Qua, questa zona. E non c'è? Ancora un'acqua nel cugino. La fontanella? C'era la fontanella. C'erano i figli, la fontanella. Sotto è scaduta l'acqua. E noi venivamo qua, prima che ci venivamo nella stagione, la stagione qua, quando faccio i trasfermi, la stagione, e venivamo a beve, venivamo a beve questo. Quanti pecore più o meno pasciarono nella stagione? Quanti pecore più o meno tre o quattro cento. Ora i pecore che c'erano nella zona, chi tenivano qua? Tenivano noi, e noi tenivano un parco di centenale, 70 o 80 grappe. Quindi voi siete la famiglia? Papi Gerza. Papi Gerza. Poi chi tenivano qua? Poi c'erano le cose sinneche, un caramoluccio sinneche, il capo d'uno, un po' tutti quelli che tenivano qua. Mio nonno? Il Muntino. Poi pure il Pugano. Il Cenoare? Un Pugano. Un Pugano. E come si faccia quando si c'erano a pesce di pecore, quando si faccia il formaggio, si faccia il turno? Come si faccia il turno? Si faccia il turno, il giornale. Raccontami un po'. Ogni partito, tra le sette di scettoria, vintano noi, e si trattava la giornata. E allora, una giornata, una giornata, una giornata, poi finché arrivavo a Ponta Agusto Pugano. Ma ho meglio il formaggio quello per ieri? Ho meglio il formaggio, parte l'aprile, fino a giugno. Ogni giornata, a Benamark, che facevi? C'è formaggio, ricotta? ricotta. E qui. Ma l'apolusso, che c'era l'apolusso? L'apolusso, era un po' brutto, perché fai un formaggio, ma l'apolusso, 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 invece le zone che convengono qua, prima le rite, come si chiamano? Le zone che sono sopra qua? Parola, l'apolusso, 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 l'apolusso. Ma come comune? Parola, diciamo, l'hai contrate, hai detto prima, c'era una contrate, no, prima l'hai detto, non l'hai detto. No, ma non c'era. La contrate, quella che non dà, la mancava io. E che dà, che dà, combiniamo qua la parola. E quindi qua c'è stata una parietta che c'era pure la cavola, la sabbia. Perché era sotto la sua pattata, andava, che buttava la sabbia per la pattata. venia a prenderla, venia a scoprire, venia, venia, insieme, che aveva facendo i lagani. E con il cavolo era a prenderla? Con il cavolo. E quanto costava, per venire il cavolo, non lo dava a cuore? No, non lo vuoi sapere troppo. Non lo dava a cuore. Poteva costare 20 lire, 30 lire, ma dove? 100 lire, 100 lire, te. Poi noi ero creati, e poi qui. Sono passato 70 anni, ora siamo trovandosi qua. capus, non lo dava, capus. Casi si o pasate aici, cazi ieri. E ce doamna? E cald, E tu sei un giovanotto Magara Magara che sei stato tu Ehi, c'è la differenza è parecchio Il canaccio è un po' un'intercaula un carubino un po' 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 è perché che ha detto il mare Questa è la miscela o la benzina? A benzina. Quanti cavalli? Quanti cavalli? Sette. Eh, ma che stacce? No. Stanche? Eh, buono. Non è pesante, capito? Ecco questa è un po' come un taglia qua, ma se no, vediamo come dicevo. Questa è un po' come un taglia, un po' che è ingiancata. Ecco questo. Ehm, ma che mette, le patate premuttivate? Eh, le patate! Eh, le piccole, adatto! Sto su, ma che vuole il secondo? Eh, prima non poteva, non poteva le patate sulle. Amora, non poteva le patate… la montagna